Non è andato in porto il tentativo di sfondare la vetrina della gioielleria Majorana d'Otranto che una banda di malviventi ha messo in atto questa mattina intorno alle ore 5. I ladri hanno cercato, con un corpo contundente, forse un martello, di rompere la lastra di vetro del locale che sfortunatamente per loro ha retto i colpi, costringendoli a scappare via a mani vuote. L'allarme dell'esercizio commerciale, scattato all'alba, ha richiamato sul posto nel giro di qualche minuto una volante della polizia e un istituto di vigilanza privata, ma all'ora arrivo i malfattori avevano già tagliato la corda. Gli agenti stanno ora visionando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza in cerca di prove utili ad identificare i responsabili. Un lavoro reso ancora più complicato dalla mancanza di testimoni, poiché all'ora del tentato furto neanche i commercianti della zona avevano aperto le loro attività.